Parto subito dicendo che per subito il 2014 è stato un anno di forte crescita, abbiamo consolidato quello che è la nostra business unit di advertising nazionale, abbiamo raggiunto un tasso di crescita pari al 50% rispetto al 2013 e chiaramente abbiamo come obiettivo quest'anno di continuare a mantenere questo trend il più possibile. Il mercato è sicuramente un mercato difficoltoso, abbiamo visto che negli ultimi due anni anche il mondo dell'advertising digitale ha avuto un forte rallentamento, noi stiamo cercando e stiamo lavorando per trovare il nostro posizionamento come player di riferimento del settore, due sono le macro strade che stiamo seguendo, il concetto principe è essere local, quindi grandi a livello nazionale ma data la caratteristica del nostro business che è fortemente caratterizzato da un'alta riconoscibilità a livello locale, continuare e sviluppare anche quello che sono le necessità di comunicazione dei nostri clienti locali. Quindi in poche parole due grandi mission per il 2015, consolidare la crescita della nostra parte nazionale e invece lanciare tutto il mondo dell'advertising locale dove sappiamo esserci interesse e soprattutto dove c'è necessità per le piccole e medie imprese di capire quello che è il mondo digitale e capire per imparare a sfruttarlo per le proprie esigenze di business.